E quindi, devo dire, non me ne vogliano loro che sono del mondo dell'economia. Io non sono un economista e non sono, per fortuna, dico e poi spiegherò perché, del mondo degli economisti, che sono, intendo, quelli accademici, quelli che si nascondono dietro una carta, una schivania, e poi nella vita di quel Cottarelli, Puglisi, Del Casi, persone simpatiche, divertenti più che altro, ma che non saprebbero gestire una bancarella. Io mi riferisco a questi che, diciamo, poi hanno avuto il compito di raccontarci un mondo che non esiste. Perché chi sono i nostri interlocutori? Io ho degli appunti, ma giusto per togliere argomenti, visto il tempo, ma cercando di essere esaustivo comunque. Abbiamo il nostro amico Giannini, Massimo Giannini, ci parla di economia, cioè l'euro. Voi non sapete, dico noi italiani, sappiamo ben poco di quello che è accaduto perché ce l'hanno non raccontato o raccontato male. Quindi io mi sono sentito, come dire, raccontare questo mondo, di questo paradiso dell'Unione Europea, Massimo Giannini, Fubini, Giacaloni, Pugli, cioè questa gente che fino a ieri aveva l'intero palcoscenico per raccontarci qualcosa, Riotta, ecco mi ne vengono dei nomi a caso. Quindi diciamo che per anni me ne sono stato zitto. Noi viviamo in un paradosso, ora al di là di quello che ho ascoltato con interesse e condivido in questo modo tutto, però secondo me bisogna andare un po' più dentro al problema, cioè spiegare effettivamente quelli che sono i titoli di credito fiscale trasferibili, non voglio usare la parola minibot, poi spiegherò anche perché, perché farli, perché non vogliono che vengano fatti e naturalmente un accenno al contesto in cui viviamo. Io mi arrabbio quando sento queste cose, cioè ci dobbiamo scervellare per vedere come fare, per morire. Cioè io sono in prigione ingiustamente, da anni. Vedo amici che devono ritirare i figli dall'università, ho avuto purtroppo amici che si sono suicidati, io sono io stesso un ex manager esodato che mi sono dovuto reinventare una vita e non ero uno tipo Moretti, io entravo in un'azienda a carattere familiare dove tutte da creare e l'ho portata nel mondo, quindi non ho nulla da invidiare ai tronchetti Provera e questi bidoni che hanno rovinato la nostra età. Quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono orgoglioso che investo i miei fine settimana ad aiutare piccole aziende a non fallire, ma non per debiti, per crediti, per crediti stanno fallendo. Quindi io sono in una prigione e mi sento da amici di destra, di sinistra, della Lega o chi che sia, che stanno lì a discutere se devo avere dieci fagioli in più, quindici fagioli in più, anziché un'ora d'aria, un'ora e mezza. Io non voglio discutere di questo, io voglio uscire dalla prigione perché non è giusto che sia lì, è assurdo, è assurdo parlare di queste stupidaggini quando io sono in un sistema che è una prigione, mi hanno chiuso ingiustamente, hanno compromesso la mia vita, quella dei miei figli e quelli che verranno. Quindi parto da questa premessa, io mi sono formato all'estero quando in Italia il marketing non sapevano nemmeno cos'è. Nel 91 davo attraverso il centro Mario Bellavista lezioni alla Bocconi, cioè noi spiegavamo a loro cos'era il marketing, quindi ho avuto una scuola, sono orgoglioso di cui mi sono fatto, si può dire, o mazzetanto di una Napoli, Gallup, Young & Rubicam, Ogilver Madre, lo girate tutti. E sono quelle multinazionali che oggi supportano loro, i nostri nemici. In Italia il marketing è escluso dalla discussione, noi non possiamo andare in televisione, perché? Perché le sgambiamo subito, chiaro? Allora io stasera non voglio stare qui perché dovrei stare ore per dire veramente quello che avrei, ritengo possa essere utile come contributo, però due o tre cosine fatemele dire. L'Italia è sotto attacco, questo lo dicono un po' tutti, lo dicono un po' tutti, è sotto attacco nei valori primari, la famiglia. Vi stanno convincendo che fare figli è una cosa brutta, stanno manipolando i nostri bimbi con le teorie, gente, roba da criminali, criminali, gente, è una cosa criminale, criminali. E non solo non devi fare figli, mi sa che proprio il professor Grossi in un altro intervento, mi sembra, abbia fatto vedere a Malvezzi che come cala la curva del credito, quindi quando si alza il credit crunch, c'è la denatualità, perché i giovani non è che siamo diventati tutti impotenti, cioè i giovani hanno paura di mettere al mondo fia, hanno paura per sé, quindi anche laddove vengono fatti, ce le rubano. Io sto seguendo sto caso non di Bibiano, cioè di Mirandola, mi sono letto tutti i fascicoli, sette ore di podcast che ha fatto veleno, questi ragazzi le iene, quindi so di cosa parlo, è un sistema malato, e secondo me fa tutto parte di un unico disegno. Allora, fatemi dire una cosa, questo sistema di lavaggio di cervello, dopo vi dico anche una cosa magari divertente, lavaggio del cervello di massa, io l'ho analizzata, non è roba delle scuole italiane, non è roba delle scuole italiane, è la stessa roba che ho studiato io, ed è roba americana. I metodi sono quelli americani, ci sono degli algoritmi che riescono a rendere oggettivo la soggettività, questi vi stanno lavando il cervello con metodi non italiani. E io sono d'accordo, ho letto il libro di questo ragazzo, che secondo me è una risorsa, perché Francesco ha voglia a provare a denigrarlo, le iene, sappiamo chi sei, quindi a noi degli altri francamente non ce ne frega niente. E tante cose, le riscontro anche nel suo libro, che tra l'altro, posso fare una marchetta? È questo libro qui, dove effettivamente non è un libro sul complotto, cioè lì ci sono dati, è quello che una volta si chiamava giornalismo d'inchiesta, l'ultimo che c'è stato in Italia è stato sul muro di gomma del caso di Ustica, poi da lì è finito, non c'è stato più nessun giornalismo d'inchiesta. La dittatura parte dal lessico, da cosa lo notate voi? Che si attribuiscono loro dei nomi. Io sono democratico, poi lascia fare se non sono democratico, però io sono democratico. Tu, te lo dico io come devi dire, ti sei populista, ma nel modo brutto, nel modo brutto, ti sei euroscettico, euroscettico, ma euroscettico vuol dire uno che non è proprio convinto, cioè sono un po' A me fa schifo l'euro, non sono euroscettico, a me fa proprio schifo, è assurdo, non mi devi chiamare euroscettico. Allora, la guerra è fra italiani che difendono l'Italia e gente che invece è anti-italiana. Questa non è destra, sinistra, sopra, sotto, gender, allora, è italiani contro chi invece vuole e contro l'Italia, punto. La guerra è questa.